Potrebbe essere l'albergo di lusso Shangri-La o un altro hotel della zona ad ospitare l'atteso vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali, ma si sa che Singapore ha designato l'area del centro un'area di evento speciale. Il vertice è fissato il 12 giugno alle 9. Il nostro focus è sull'incontro tra Kim Jong-un e il presidente, che gli comunicherà le sue opinioni direttamente a Singapore. Il focus continuerà ad essere la denuclearizzazione. I preparativi vanno avanti a tutti i livelli, dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è arrivata la disponibilità di intervenire. Saremo pronti ad agire rapidamente e ad avere un ruolo importante nel verificare il programma nucleare della Corea del Nord se viene raggiunto un accordo politico. A Pyongyang Kim Jong-un mette a punto le ultime mosse in vista del vertice. Il leader ha sostituito le tre più alte cariche militari, probabilmente per rafforzare il suo controllo sull'esercito in un momento così delicato. Intanto a Singapore anche i baristi si preparano. Sono stati creati i cocktail Trump e Kim, ma nessuno vuole dire quale sia il più forte.